Ciao a tutti! Oggi prepareremo lo smoothie alla banana e latte di mandorle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Gli ingredienti sono banane mature tagliate a pezzi, latte di mandorla freddo, miele, scaglie di mandorle, cannelle in polvere, cubetti di ghiaccio. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le banane ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il miele, il latte di mandorla, i cubetti di ghiaccio e la cannella. Ed azionare il bimbi per 20 secondi a velocità 8. Lo smoothie è pronto. Serviamolo con le mandorle alla lamelle. Smoothie alla banana e latte di mandorle. Grazie e alla prossima ricetta! Ciao! 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 Ciao!